Io sono uno di quelli che ha sempre detto che a Napoli hanno fatto bene gli allenatori di campo, non a caso, i Sarri, gli Spalletti, i Mazzari stesso prima ancora, perché secondo me noi abbiamo la fortuna, perché io la ritengo una fortuna, di avere un presidente che è tanto presidente e quindi riesce ad inglobare tutta la parte che in altre società hanno bisogno di colmare con dirigenti, accompagnatori, direttore sportivo, direttore generale. Noi si è trovata questa quadratura che nel bene o nel male ci ha portato comunque ad ottenere tantissimi risultati, ad essere in Europa da 15 anni, a vincere uno scudetto. Quindi io sono strafelice e spero che resti quanto più a lungo possibile.